Lea la letta al numero 30 della Ush di Ladins. Sulla prima piatta il campione da San Cianch e del Friula vadagnassi e quinto titolo mondiale del Deltaplan. Dell'attualità il Cedean del Grob da Montca e Isat Autafascia. Il secondo appuntamento della rassegna JMMJ. La relazione dell'autorità della provincia sulla situazione del 2018. E la proponente di Orden del Dio del consegher Ladin Luca Guglielmo. Due piatti sentries dashen chieder della situazione della Botteigues e desiede a venire malsegure. Ed è nella radunanza generella straordinaria dell'Union di Ladins e Gherdena stata in stadì. L'estate deliberà importanti mudamenti. Aldo della segnalazione del suo inabonato, del neff film del Spider-Man sommi anche nella parte della scena. Si è stato stouto giù ante l'ampezza e il suo offo di Valparola e Fauzare. Il gestor team ha investito per sapere 30.000 euro per portare la connessione a 20 mega. Il neff servizio è pissato alla regola di ampezza a una con le forze dell'ordine. Una gioia femmina che vi fa il plan mostra che che si può fare con i svegli e un pizzo di creatività. Tutta una piatta che viene dedicata al cognosso artiste Simon Kostner, che sarà in c'è guest alla festa a Mont. La piatta che si è fatta con il progetto Pisa per contare la storia della tradizione Rueda al Cedean Toron. L'esposizione dei chieders di Verata alla Luce e la rai da Teval di San Nicolò dell'Associazione La Formia. Sono in hand con un'autor Cedean, che è il primo gruppo dei uomini da Monta di Fascia. L'incontro con l'alpinista della Valdega del Chieders di Ispirazione di Stà. L'esperienza dei nostri studenti che ha fatto perdita della Frada tra la scuola laddina e la scuola italiana della Serena. La mostra che conta il mudamento del paese e della storia postale dal scomento del secolo passato a Nesdiz. E che la teccia usa marmolata a Vick che auza fuori all'amor per la fotografia dei si e jo in fascini. Se per leggere in c'è un bel scritto di Anneliese Vian che ne invia a prigere un ben prezioso di nostra terra. Amo appena descritto sempre l'assoluzione del retrato pubblicato sulla Ush della settemena d'ant. Perché il che verde al sport è il suo nome della Neves dell'Hockey e del Junior Camp del Sud Tirolo in drezza al Coutura dei Vick per i becci con la passione del ballone. Sulla Ush della Dins ogni vender potete trovare la Neves da tutta la Ladinia. Per info e abbonamenti potete vi augurare alla redazione di Fascia su un stradone a Saint-Jean Telefon 04-12-76-45-45 Mail Fascia-laush.it Da adesso fin di Dezember l'abbonamento costa demò 30 euro. Il Sfo Interladin lente online sul sito www.laush.it Ote la bottega del Sfo è seduta alla Val. Il Sfo Interladin lente online sul sito www.laush.it